Giornale Radio Nuova In provincia di Fermo e uno fuori regione Questi casi comprendono 21 rientri dall'estero Kosovo, Albania, Moldavia e Afghanistan Contatti in ambiente domestico asintomatici Soggetti sintomatici e contatti stretti di casi positivi Le marche hanno un indice RT di trasmissione del coronavirus pari a 0,78 13 i soggetti attualmente ricoverati Di cui uno in terapia intensiva e 12 in reparti non intensivi 382 i soggetti positivi in isolamento domiciliare Nella giornata di ieri non si sono verificati decessi da Covid-19 988 il totale delle vittime marchigiane dall'inizio dell'emergenza Per tutti gli aggiornamenti vi rinviamo al sito regione.marche.it e radionuova.com Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha sottoscritto ieri il decreto numero 253 Con il quale si aggiorna il numero massimo di spettatori di sale e cinematografiche Teatri, circhi, teatri, tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti Produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali Produzioni teatrali, produzioni di danza Il decreto stabilisce che gli utenti in tutti i contesti, sia in spazio al chiuso che all'aperto E caratterizzati da posizioni fisse e prestabilite Devono trovarsi a un metro di distanza da bocca a bocca Così come previsto per il distanziamento negli ambienti scolastici Si prevede inoltre di ridefinire il numero massimo di spettatori Non in cifra assoluta, ma in relazione alla capienza dei luoghi dove vengono svolti gli spettacoli Mentre dunque, fino a ieri era previsto il limite massimo di 200 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto Ora per gli spettacoli al chiuso e all'aperto La capienza massima è determinata dal numero di spettatori autorizzati Dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dall'enorme antincendio Decurtato dal numero di sedute non utilizzabili Al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari per il distanziamento tra gli spettatori Nell'imminente apertura della scuola, l'assessorato all'istruzione della Regione Marche ribadisce che le elezioni avranno inizio il giorno 14 settembre E che è stata data la possibilità ai comuni, in accordo con le prefetture, di allestire seggi fuori dalle scuole in locali alternativi Per questo è stato stanziato anche un finanziamento da parte della Regione Permangono invece delle criticità notevoli dal punto di vista didattico Ad esempio le aule Si è affermato che sono poche quelle non a norma, il 5%, ma continuano ad arrivare alla Regione segnalazioni sul fatto che non siano sufficienti Altro punto dirimente la didattica a distanza È necessario capire, nei casi in cui si dichiara che sarà applicata, se si tratti di una scelta a priori del singolo preside o se sia motivata da criticità L'assessorato all'istruzione e la Regione Marche attendono dall'ufficio scolastico regionale un monitoraggio e una comunicazione precisa della situazione e dell'organico assegnato alle Marche A cinque mesi dalla morte si è celebrata alle 18.30 di ieri la Santa Messa in ricordo di Don Giuseppe Branchesi, deceduto lo scorso aprile a causa del Covid-19 A presiedere la celebrazione svoltasi nel campo sportivo di Santa Maria in Selva il vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi che ha anche presentato il nuovo parroco Donigino Tartabini Circa un centinaio i presenti alla celebrazione organizzata dai comitati parrocchiali di Santa Maria in Selva e Camporota di Treia Dopo quasi quattro anni al comando del reparto operativo dei carabinieri del comando provinciale di Macerata il tenente colonnello Walter Fava saluta la città per tornare a Roma questa volta a rivestire l'incarico di comandante del gruppo del comando carabinieri per la tutela della salute Tanti i risultati operativi di spessore conseguiti in questi ultimi quattro anni nell'attività antidroga in provincia, commenta Fava a partire dall'arresto del gruppo di cittadini albanesi coinvolti nel rinvenimento e sequestro di oltre 900 kg di marihuana portorecanati nel giugno 2017 per passare all'operazione TOP 2017 che ha portato all'arresto della banda di origine magrebina avente maxi sequestro di oltre 240 kg di hashish e poi le tempestive ed efficaci risposte agli efferati e drammatici delitti di fine gennaio e inizio febbraio 2018 con il tragico omicidio di Pamela Mastropietro e la strage ad opera di Luca Traini ma l'ufficiale ricorda con grande soddisfazione anche l'attività svolta con grande cura nell'organizzazione dello spettacolare concerto della banda dell'arma nel meraviglioso Sferisterio di Macerata a settembre dello scorso anno e delle annuali feste dell'arma il successore del tenente colonnello Fava da lunedì sarà il tenente colonnello Mengasini Massimiliano proveniente dal reggimento allievi marescialli e brigadieri di Velletri Macerata proseguono le celebrazioni patronali domenica 6 settembre festa della Madonna della Misericordia la Santa Messa sarà celebrata nel santuario ad essa dedicato alle ore 8 e 9 e 30 segue alle 12 la supplica alla Madonna alle ore 17 tradizionale festa delle Canestrelle con il corteo in partenza dalla centrale Piazza della Libertà alle 18 e 30 sul Sacrato della Cattedrale il Vescovo Marconi presiderà la Santa Messa trasmesse in diretta sulle nostre frequenze tutte le celebrazioni si svolgono nel rispetto delle normative Covid-19 rinviata a maggio 2021 la 14esima edizione della Festa dell'Europa l'amministrazione comunale di Macerata e tutti gli attori che solitamente vengono coinvolti nella manifestazione per i noti motivi legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 hanno infatti desistito all'idea di organizzare gli eventi che erano in calendario come in altri casi vedi la celebrazione del 25 aprile e le giornate di festa legate al primo maggio ai Giardini Diaz sono saltate molte iniziative legate all'aggregazione giovanile e che in passato hanno caratterizzato importanti momenti di socialità l'assessorato alle politiche giovanili fino a ieri si è impegnato nel tentativo di recuperare anche in modo ridotto lo spirito di questi eventi non a caso l'amministrazione comunale è al lavoro per pianificare un recupero della Festa dell'Europa che dovrebbe svolgersi dal 6 al 9 maggio 2021 la provincia di Macerata ha iniziato ad asfaltare la provinciale 124 nel tratto tra stazione di Pollenza e Pollenza i lavori hanno un valore di 250.000 euro e l'amministrazione provinciale ha autorizzato anche l'utilizzo dei ribassi d'asta per eseguire la nuova pavimentazione su ulteriori tratti di strada l'intervento è finanziato con le risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le opere pubbliche a favore della sicurezza stradale relativi al bilancio 2020 stiamo completando le opere pubbliche previste nel bilancio di quest'anno afferma il Presidente Antonio Pettinari nel frattempo l'Ufficio Tecnico Provinciale sta progettando gli interventi previsti per l'anno 2021 assegnata per la prima volta all'Università di Macerata una delle sole 70 cattedre Jean Monnet finanziata a livello mondiale dall'Unione Europea di cui 9 in Italia le cattedre Jean Monnet sono incarichi di insegnamento per progetti didattici di alto profilo sull'integrazione europea che godono di un finanziamento specifico triennale pari per Macerata a 50.000 euro i risultati sono stati comunicati dalle ACE all'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura della Commissione Europea a conseguire il prestigioso riconoscimento è stato Alessio Bartola Celli docente di diritto commerciale del Dipartimento di Giurisprudenza i grandi risultati della ricerca, commenta il rettore Francesco Adornato nascono dall'incrocio tra discipline, dipartimenti, atenei e tra essi le strutture esterne come testimoni a questo riconoscimento frutto anche della vitalità nell'ambito dei temi legati alla sostenibilità che caratterizza gli interessi scientifici di molti nostri docenti il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei a meno di quattro anni di distanza dalle scosse di terremoto che nell'ottobre 2016 la costrinsero a dichiarare non utilizzabile un intero condominio di viale Europa nelle scorse ore ha firmato la revoca dell'ordinanza di inagibilità riferita allo stabile, sito al civico 43 un ritorno alla normalità per chi viveva nella palazzina composta da ben 15 abitazioni uno studio commerciale e un'impresa funebre lo stabile è stato interessato nel frattempo da lavori di riparazione del danno sismico con rafforzamento localizzato della intera struttura finanziato dall'ufficio speciale per la ricostruzione nella regione Marche di oltre 1 milione e 400 mila euro entrano nel vivo le festività dedicate al copatrono della città di Tolentino, San Nicola come tutti gli anni, seppur in forma ridotta a causa delle normative anti-covid-19 la comunità agostiniana con il nuovo priore e rettore della basilica padre Gabriele Pedicino e l'amministrazione comunale con il sindaco Giuseppe Pezzanesi in collaborazione con la Proloco TCT e l'ASM SPA e diverse associazioni cittadine hanno predisposto un programma di manifestazioni religiose e civili per evitare sembramenti, come in altre situazioni analoghe in altri paesi sono state annullate la processione e la tradizionale tombola della Domenica del Perdono anche lo spettacolo pirotecnico, come avviene da anni a seguito del sisma, è stato cancellato per tutto il periodo dei festeggiamenti, luminarie, lotteria di beneficenza e Luna Park in zona Sticchi giovedì 10 settembre, festa di San Nicola il Vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi celebrerà la Santa Messa alle ore 18.30 Lo sport Partirà da Pieve e Torina la settima tappa del Tirreno Adriatico che dopo il rinvio avvenuto a marzo vede il 7 settembre come data ufficiale d'avvio La 55esima edizione della storica ed amata corsa ciclistica del Bel Paese si svolgerà in sicurezza dal 7 al 14 settembre con chiusura a San Benedetto del Tronto tenendo conto delle normative anti-Covid e prevederà 8 tappe anziché 7 Di queste la settima è proprio la Pieve-Torina-Loreto con i suoi 181 chilometri di percorso L'aver confermato la presenza nel nostro comune di una delle corse ciclistiche più importanti d'Italia rappresenta una straordinaria opportunità per far conoscere il nostro territorio riferisce il sindaco di Pieve-Torina Alessandro Gentilucci Tuttavia prosegue e sarà anche l'occasione per documentare visto che apriremo alla corsa il centro storico e quindi la nostra zona rossa l'inerzia di questi quattro anni in fatto di ricostruzione La Pieve-Torina-Loreto è conosciuta come la tappa dei muri con un circuito finale di 25 chilometri che prevede di affrontare le due salite di Loreto e Recanati e gli ultimi chilometri tutti in salita con pendenze attorno al 10% Il tempo nelle marche Previsioni per domenica 6 settembre Sulla nostra regione cielo sereno o al più poco nuvoloso per transito di nubi alte nella seconda parte della giornata Precipitazioni assenti Temperature in lieve aumento in particolare nei valori minimi Venti di brezza tesa settentrionali Mare quasi calmo o poco mosso nelle ore centrali Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi Giornale Radio Nuova